Continui rincari e pensioni non adeguate per i pensionati sardi, i numeri della grave emergenza nel rapporto dell'Unione Italiana lavoratori pensionati. Giudizio positivo del capogruppo della Lega sulla finanziaria regionale, secondo Michele Ennas, è una manovra che pone le basi per il rilancio dell'economia regionale. Il sindaco di Sant'Antioco critica duramente Polis, il progetto promosso da poste italiane. Secondo il primo cittadino della città lagunare rischia di essere un'operazione di macchiage che non migliorerà i servizi postali. In Lega Pro, Torres e Dolbia cercano il riscatto dopo le sconfitte subite mercoledì. In Serie D spicca la trasferta dell'Atletico Uri sul campo della capolista paganese. In eccellenza il latte dolce ospita la lanciatissima Ferrini sul proprio campo che ritrova dopo 2493 giorni. Ben ritrovati per questa seconda edizione del nostro telegiornale. Odierno, come avete potuto sentire dai titoli, sempre più dura la vita per i pensionati sardi. Per il 95% di loro i continui rincari e le pensioni non adeguate stanno creando enormi difficoltà ad arrivare a fine mese. I numeri nel rapporto dell'Unione Italiana lavoratori pensionati. Maurizio Rocci. C'è anche chi è ormai costretto a risparmiare persino sulla spesa. Per gli anziani in Sardegna arrivare a fine mese sta diventando sempre più duro. 9 su 10 infatti sono costretti a drastiche rinunce pur di arrivare sino alla quarta settimana. La vita, insomma, è sempre più dura per gli oltre 470.000 pensionati sardi che, di media, incassano poco più di 800 euro al mese, sempre più spesso insufficienti per una cena in ristoranti o un caffè al bar, ma anche per il carburante dell'auto o persino per una capatina dal barbiere. Ad incidere pesantemente sui bilanci del 95% dei pensionati dell'isola sono i costanti rincari che, secondo il recente rapporto della WILP, il sindacato dell'Unione Italiana lavoratori pensionati, sta portando ad un progressivo e pesante impoverimento. L'inflazione alle stelle e il taglio della rivalutazione sono state infatti due pesantissime stangate per il potere d'acquisto delle pensioni, soprattutto in una regione come la Sardegna, in cui gli importi sono estremamente bassi e il carrello della spesa continua ad aumentare. Per non parlare del contraccolpo sul riscaldamento, spento o ridotto dal 90% degli anziani, o sul consumo dell'elettricità, ridotto del 88% degli over 65. Eppure, nonostante la perdita del potere d'acquisto, il 70% delle pensionate e dei pensionati continua ad aiutare a livello economico un familiare, molto spesso un figlio o una figlia. A questa situazione si aggiungono le enormi difficoltà di erogare servizi adeguati, soprattutto nelle zone dell'interno. Carenza di assistenza sanitaria sul territorio anche per mancanza dei medici, lunghe liste d'attesa, carenza di alcuni medicinali importanti. Per questo la UILP rivendica l'attivazione di tavoli di confronto a livello regionale, che affrontino in primis le liste d'attesa e poi il tema fondamentale della medicina territoriale. Si è svolto ieri a Sassari il primo appuntamento del Job Day Sardegna. 3.000 gli iscritti, 6.000 i candidati ed oltre 1.200 colloqui in presenza, seminari e laboratori per 1.000 studenti delle scuole superiori. Si tratta del primo dei sei appuntamenti organizzati dall'assessorato regionale del lavoro e dell'ASPA alla Sardegna e di sui centri per l'impiego con l'obiettivo di far incontrare domanda e offerta di lavoro. Vediamo dunque un breve intervento dell'assessore del lavoro Adalai. Questo è il primo giorno del Job Day, ce ne saranno tanti altri in Sardegna perché noi dobbiamo andare verso i disoccupati, verso i giovani che cercano lavoro, verso chi vuole orientarsi. E verso le imprese. Noi, non loro. Perché? Perché in questo momento in Sardegna il lavoro c'è. Le imprese lo cercano tutti i giorni, non trovano il personale perché forse c'è poco incontro. Ebbene, da questo momento in poi, e questa è la prima grande giornata in cui questo sarà fatto, ci saranno incontri precisi tra le imprese che offrono il lavoro, che chiedono magari ai giovani di essere formati e noi possiamo fare entrambe le cose, e gli giovani o i disoccupati comunque che cercano lavoro. L'orientamento delle scuole, capire qual è il mercato, capire le proprie competenze, i propri talenti, quello che offre. Quindi dalla scuola superiore in poi c'è già un primo momento. Poi le università naturalmente che formano e formano più specialisticamente. E poi le imprese che chiedono e chiedono queste competenze, chiedono nuovi lavori. A questo punto dobbiamo incontrarci e per incontrarci l'istituzione si mette a disposizione. Questi sono i migliori fondi regionali spesi proprio perché questo incontro favorirà la rinascita dell'economia. È un giudizio ampiamente positivo sulla manovra finanziaria approvato dal Consiglio regionale, quello del capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Michele Ennas. È una manovra capace di dare risposta a tutti i settori economici e sociali, ha detto Michele Ennas. Importanti risorse sono state stanziate anche per le opere pubbliche per intervenire su dissesto idrogeologico e edilizia pubblica, invasi, ponti, viadotti e manutenzione delle strade provinciali e comunali. Il comparto agricolo e della pesca sarà sostenuto con importanti interventi finanziari con oltre 250 milioni. Questa manovra finanziaria, ha aggiunto il capogruppo della Lega, pone le basi per il rilancio dell'economia regionale dopo le ultime due manovre approvate per sostenerla nella crisi causata dalla pandemia, con particolare attenzione alle imprese sarde e sostegno alle famiglie. Il grande entusiasmo che ruota attorno al progetto Polis, promosso da poste italiane, quindi dal Ministero delle Economie e delle Finanze, e perciò finanziato con i soldi dei contribuenti, mi sembra oltremodo fuori luogo. Per due ordini di ragioni. La prima è che si vuole far passare come innovativa la ristrutturazione dei locali nei quali hanno sede gli uffici postali. La seconda è che l'osannato arrivo del digitale in luogo degli sportelli fisici non farà altro che ridurre personale e servizi allontanando i cittadini. Lo ha detto Ignazio Locci, sindaco di Sant'Antioco. Questo progetto rischia di essere un'operazione di macchiage che di sicuro non semplificherà la vita a coloro che usufruiscono dei servizi postali, ha aggiunto il sindaco di Sant'Antioco. Sarebbe bello invece che poste italiane ritornasse a fare semplicemente la posta e non vestisse i panni della banca con i soldi dei contribuenti. Un convegno nell'aula magna dell'Ateneo sassarese ed una messa in cattedrale sono stati organizzati dalla clinica Otorino-Laringoiatrica dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari in collaborazione con l'Università e l'Arcidiocesi per cerebrare San Biagio, il patrono degli otorini. Vediamo insieme. La laringectomia totale, trattamento altamente mutilante che un tempo implicava la perdita completa della fonazione e spesso l'impossibilità di comunicare, è stata al centro della lezione magistrale tenuta ieri sera a Sassari dal professor Jacopo Galli, direttore dell'Ottorino-Laringoiatria dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma in occasione dei festeggiamenti per la vigilia del patrono degli ottorini, San Biagio, che ricade oggi. L'incontro organizzato dalla clinica Ottorino-Laringoiatrica dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari si è svolto nell'aula magna dell'Ateneo turritano alla presenza del rettore dell'Università di Sassari Gavino Mariotti e del direttore dell'Ottorino-Laringoiatria sassarese, professor Francesco Bussu, del direttore generale dell'azienda di Sassari Antonio Lorenzo Spano, del sindaco di Sassari Nani Campus. La metodica interventistica illustrata dal docente romano durante la lezione dal titolo Laringectomia totale, oltre la tecnica percorrendo l'esperienza, nei casi dei tumori avanzati della laringe resta spesso l'unico intervento possibile per l'eradicazione completa del tumore. Un intervento che prevede l'asportazione delle corde vocali e la presenza permanente di un buco per respirare. La clinica Ottorino-Laringoiatrica dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari ha recentemente pubblicato in collaborazione con il resto del gruppo multidisciplinare una revisione della casistica dei tumori avanzati della laringe operati dal 2017, anno di arrivo a Sassari del professor Bussu, che dimostra una sopravvivenza altissima, circa il 93%, in linea con i migliori centri a livello internazionale. Il pomeriggio è proseguito con la messa in onore di San Biagio, celebrata in cattedrale dall'arcivescovo sassarese Gianfranco Saba. Prima della funzione religiosa, l'arcivescovo ha salutato due piccoli bambini che, seduti con i loro genitori tra i banchi della chiesa, sono stati operati in questi anni nella clinica sassarese. La cerealicoltura sarda può tirare un sospiro di sollievo. Attraverso la nuova finanziaria arrivano quasi 11 milioni di euro. Grazie ad un emendamento voluto da Coldiretti Sardegna si garantirà il premio per le aziende che producono grano duro ed hanno aderito ad un accordo di filiera. Un intervento che consentirà di liquidare le domande in graduatoria bloccate per assenza di fondi nonostante i cerealicoltori avessero adempiuto agli impegni richiesti, sostiene il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Qualmu. Inoltre si sostiene un settore il cui valore è spesso sottovalutato, lo abbiamo capito tutti un anno fa. Non possiamo dimenticarci che appena 12 mesi fa eravamo tutti nel panico per il blocco del grano dalla Russia e dall'Ucraina, mentre qui avevamo i campi incolti. Bentornati in studio. Rispettati i limiti di legge, ma i livelli di polveri sottili nelle città della Sardegna sono aumentati negli ultimi dieci anni. A Nuoro e Oristano è stato registrato un più 3%, per lega ambiente occorre fare di più. Maurizio Rocci. Non solo Torino e altre grandi città della penisola. Il problema delle polveri sottili e dunque dell'inquinamento atmosferico non lascia indene neppure l'isola, seppure con percentuali decisamente diverse dal resto d'Italia. È un rapporto in chiaro-oscuro, quello delineato dal nuovo report di lega ambiente, ma l'area di città, cambio di passo, cercasi, che ha interessato l'isola, dove i limiti di legge sono rispettati, ma dove occorre anche fare di più. Rispetto a nuovi target europei previsti al 2030, la situazione in rilievi infatti indicano un aumento di livelli di smog. Tanto che negli ultimi dieci anni, a Nuoro e Oristano, il livello di polveri sottili è del più 3%, e a Sassari del più 1%. Servono interventi incisivi per rendere le nostre città più salubri. Le strade devono essere progressivamente liberate dalle auto per lasciar posto alle persone, alla mobilità dolce e al trasporto pubblico. Il verde urbano, ha dichiarato Annalisa Columbo, presidente di Lega Ambiente Sardegna, deve essere aumentato continuando la piantumazione di alberi e incentivando la realizzazione di aiuole, tetti verdi e giardini verticali. Ma non solo. Dobbiamo ripensare le città, ha aggiunto, mettendo le persone al centro del progetto. Creare spazi verdi genera un beneficio non solo sociale, ma anche sanitario, e occorre investire sul futuro delle nuove generazioni e sulla salvaguarda del nostro pianeta. Abbiamo degli ultimi esempi in Sardegna, come Olbia, che è una città a 30 km orari. Alla regione chiediamo di trovare il modo di replicare le buone pratiche e investire su città pulite e sicure. La Giunta Comunale di Iglesias ha approvato il progetto per gli interventi di manutenzione straordinaria dell'ex ostello della gioventù in località ceramica, con l'obiettivo di riqualificare la struttura e renderla idonea a ospitare uffici di tipo tecnico e amministrativo. Gli interventi nella struttura, che si prevede diventerà la sede degli uffici del Corpo Forestale per il Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale di Iglesias, saranno finanziati per un importo di 500 mila euro da fondi regionali. È prevista anche la possibilità di allestire una superficie esterna per il decollo e l'atterraggio di un elicottero. È stata in Sardegna il progetto che verrà presentato venerdì 10 febbraio ad Orosei. Vediamo nel servizio di che cosa si tratta. Verrà presentato venerdì 10 febbraio alle 19 nella sala convegni di Savinanza-Vezza a Orosei. Il progetto è stato in Sardegna frutto della sinergia tra l'amministrazione comunale, la Proloco e i responsabili di Pagine Sì. L'iniziativa, spiegano i promotori, è stata pensata per fornire a Orosei uno strumento di promozione turistica davvero all'avanguardia che pochi comuni della Sardegna oggi possono vantare. Il progetto, fortemente voluto dall'amministrazione, che fin dal suo insediamento ha dato un'impronta del suo operato al passo con i tempi e crede nelle grandi potenzialità di questo Paese, fanno sapere gli amministratori, è uno strumento di promozione così come gli altri che si stanno portando avanti e che verranno utilizzati a breve e lungo termine. Un ingraziamento particolare, aggiungono gli amministratori, va a tutti gli operatori economici presenti nella piattaforma che hanno contribuito alla realizzazione del sito. Siamo lieti di invitare tutti gli operatori turistici e i cittadini interessati alla presentazione. Saranno presenti oltre i rappresentanti dell'amministrazione comunale, i rappresentanti della Proloco, i responsabili di Pagine Sì e del portale è stati in Sardegna, Simona De Pretis, Renzo Masala e Massimo Zola. Il Comune ha aderito anche alla convenzione CONSIP che prevede l'efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica, grazie alla sostituzione di lampade tecnologicamente obsolete con lampade a maggiore efficienza, nonché all'installazione di componenti di impianto utili alla ottimizzazione, regolazione e al risparmio di energia. I pareri negativi di ISPRA e del Ministero dell'Ambiente non consentiranno alla Regione Sardegna di estendere la caccia al cinghiale anche nel mese di febbraio. La decisione era stata presa considerando i dati sui sinistri stradali, oltre 1200, e gli ingenti danni all'agricoltura denunciati dalle associazioni di categoria. È stata però indicata una strada che potrà consentire la caccia in periodi diversi avvalendosi anche dei cacciatori. Ci impegniamo a percorrerla quanto prima, anche apportando le opportune modifiche normative alla legislazione regionale. Lo ha detto l'assessore regionale della difesa dell'ambiente Marco Porcu, in occasione della riunione del Comitato Faunistico regionale. Ci spostiamo a Ozzieri che potrà contare su 2324 metri di nuove condotte e 207 allacci alla rete per un investimento pari a oltre 1.260.000 euro. Lo prevede il progetto di riqualificazione idrica recentemente approvato da Legas, finalizzato alla riqualificazione idrica del Paese, i cui lavori potranno essere immediatamente appaltabili da parte del gestore del servizio Abanoa SPA. Il prossimo intervento in programma permetterà la realizzazione di oltre 2 chilometri di condotte in ghisa speroidale, materiale altamente resistente e durevole nel tempo. Andiamo avanti. Il parco auto del comune di Alghero si arricchisce di nuove auto elettriche consegnate dalla ditta Confalonieri. Si tratta di quattro Twingo che completano il progetto Smart City dell'assessorato dell'industria della regione Sardegna e della rete metropolitana del nord Sardegna, che ha consentito alla riviera del Corallo di portare a 11 mezzi green attualmente in esercizio. In parallelo prosegue l'installazione delle nuove colonnine dislocate in città per la ricarica di auto elettriche. L'assessorato dei servizi sociali del comune di Carboni ha pubblicato la graduatoria provvisoria relativa al bonus nidi gratis secondo semestre. I beneficiari risultati ammessi e quelli risultati ammessi con riserva al fine della quantificazione e liquidazione del contributo spettante al proprio nucleo familiare dovranno presentare con decorrenza immediata e dentro il 15 febbraio 2023 tutta la documentazione in loro possesso che dimostri il pagamento delle rette di frequenza dal luglio a dicembre 2022 ricevute o fatture rilasciate dalla struttura frequentata. È la documentazione riguardante le mensilità del bonus asili nido IMSS percepito dal luglio a dicembre 2022. La tabella bonus asili nido presente nel cassetto previdenziale cittadino scaricabile da sito internet dell'Inps. C'è tempo sino al 10 febbraio per candidarsi ai due posti di volontari del Servizio Civile Universale nella Proloco di San Giovanni su Ergiu. All'avviso possono aderire giovani del Paese tra i 18 e i 29 anni. L'impegno annuo sarà di 1145 ore ed è previsto un assegno mensile di 444,30 euro. Il Dipartimento per le politiche giovanili di Servizio Civile Universale ha finanziato il progetto dal titolo Un viaggio lungo la storia e il folklore della Sardegna nell'ambito del settore patrimonio artistico e culturale. Le candidature dovranno essere presentate attraverso il portale online del Servizio Civile Nazionale. A Carbonia la Somica sta eseguendo interventi di manutenzione in piazza Marmilla e in piazza Primo Maggio. Si tratta di lavori importanti, ha spiegato il sindaco Pietro Muritu, resisi necessari principalmente a seguito dell'usura legata al tempo, agli atti vandalici o al danneggiamento cagionato dal transito di mezzi funzionali a garantire un maggiore decoro urbano. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore delle manutenzioni Piero Porcu. Domani, sabato 4 febbraio alle ore 18, la sala Remobranca Iglesia sospiterà la prima presentazione di Controluce, il nuovo romanzo di Claudia Aloisi, pubblicato da Condaghe Sedizioni. Gli eventi narrati si svolgono attorno alle miniere dell'Iglesiente, tra l'isola di San Pietro e la Suggestione di Porto Flavia. L'evento è organizzato dall'Associazione Argonautilus ed è parte della Fiera Off dell'Ottava Fiera del Libro di Iglesias 2023, intitolata Mappe, organizzato con il patrocinio del Comune di Iglesias. L'Associazione Terra Battuta rilancia le proprie attività di animazione culturale e sociale con il trasferimento della propria sede operativa in via Tempio 22A a Cagliari. La serata inaugurale della nuova sede è fissata per domani, sabato 4 febbraio, con ingresso libero a partire dalle ore 18. Per l'occasione si potrà visitare la mostra pittorica dell'artista sardo Gianluca Petrini. Apriamo con lo sport la terza parte del nostro telegiornale. Dopo le amare sconfitte subite nel turno infrasettimanale, Torres ed Olbia tornano in campo per la settima giornata di ritorno del girone B del campionato di Lega Pro contro due squadre che occupano la stessa posizione di classifica con 35 punti. La Torres ospita la lucchese, l'Olbia gioca sul campo delle Fiorenzuola. Nel girone G del campionato di serie D giunto alla quinta giornata di ritorno giocano in casa la costa orientale Sarda e l'Ilva Maddalena, rispettivamente contro Casertana e Portici. In trasferta l'Atletico Uri e l'Arzachena, sui campi rispettivamente della capolista Paganese e della lupa Frascati. Dopo 2493 giorni il sassa di calcio Latte Dolce torna nella sua casa. Domenica 5 febbraio alle 15 la squadra di Mauro Giurico giocherà nel nuovo campo principale in sintetico di Latte Dolce, ingresso da Via Madre Teresa di Calcutta a fianco Piscine. I bianco celesti, reduci dal turno di riposo, giocheranno contro la Ferrini Cagliari, settima forza del campionato con 41 punti, 25 punti conquistati nelle ultime 10 partite giocate. Siamo in chiusura domenica 5 febbraio a partire dalle ore 15 il Palazzetto dello Sport di Via delle Cernitrici a Carbonia sarà teatro dell'evento Sport Insieme Carbonia organizzato da MSP Italia, Comitato Provinciale Carbonia Iglesias con il patrocinio del Comune di Carbonia. Sport Insieme Carbonia 2023 sarà incentrato sulla pratica delle discipline del fitness e della danza sportiva e vedrà la partecipazione di nove società dell'intero territorio e del sulcisiglesiente. E questa era l'ultima notizia anche di questa edizione serale del nostro telegiornale odierno. Vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo per la giornata di domani e di domenica e con Noasa in corso, il nostro telegiornale in lingua sarda. Grazie ancora per essere stati con noi e per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata e un buon weekend. Arrivederci! Grazie a tutti!